Bentornati in studio a Malacoda, stiamo parlando con Federico Gianassi e Miriam Mamato, scendiamo sui temi ed attualità, quelli della città fiorentina, in particolare il tema dell'aeroporto. Oggi l'amministratore delegato di ADF Carrai è stato intercettato dalle nostre telecamere alla prima giornata dell'edizione di Pitti e allora sentiamo che cosa ha detto proprio in merito all'aeroporto. Le infrastrutture sono fondamentali, fondamentale può essere l'aeroporto, a che punto siamo e quali sono le prossime tappe? Allora le prossime tappe spero siano tappe molto veloci, la società aeroportuale dell'aeroporto di Firenze che è il gestore dello scalo ha approvato il master plan, sta facendo lo studio di impatto ambientale, il master plan come sapete è stato approvato in linea tecnica a parte di ENAC, ora stiamo aspettando le conclusioni del studio di impatto ambientale e poi toccherà alla regione partire con la procedura di via e con le procedure successive. Noi siamo molto ottimisti, speriamo che tutto l'iter compreso l'autorizzazione finale che uscirà da una conferenza dei servizi promosso dal Ministero delle Infrastrutture possa arrivare entro l'estate. A quel punto cercheremo di andare molto veloce con tutte quelle che sono le procedure, naturalmente rispettando i tempi e le tempistiche previste dalla legge per arrivare alla realizzazione della pista entro il 2017. Naturalmente non si parla solo di pista ma si parla di l'intera risistemazione dell'aeroporto complesso anche il nuovo terminal. Ecco, i 400 metri di pista sono affidati alle vie legali a questo punto? Ma non tanto alle vie legali, sono affidate alle vie tecniche perché una cosa sono i ricorsi legittimi che naturalmente chiunque è interessato può fare, altra cosa sono le decisioni rispetto a quelle che sono gli standard del rispetto internazionale per le lunghezze della pista e invece sono affidate, la legge questo è ben chiara, a coloro che sono i regolatori. Quindi non si tratta di vie legali ma di vie tecniche. Quindi l'ultima parola sempre all'aeroporto? L'ultima parola a coloro che sono i regolatori e quindi ad ENAC. Già i primi giorni del 2015 stanno vedendo l'aeroporto di Firenze, sta ancora crescendo e sembrerebbe quasi impossibile dopo l'oltre più 13% fatto nel 2014 i record raggiunti. Però noi abbiamo ottime aspettative perché anche a breve lanceremo nove rotte per l'aeroporto di Firenze e quindi ulteriore incremento di passeggeri e anche di destinazioni. Allora Giannassi, partiamo da lei. Diciamo di temi in campo, Carrenni ha messi diversi e partiamo dal primo che è uno scontro che ormai si potrebbe definire epico, quello che è stato tra la regione toscana e ENAC all'inizio, il pit realizzato, 2000 metri, poi invece se ne chiedono 2400 da parte dell'ente aeroportuale, c'è ancora discussione molto aperta su questo. Diciamo il Comune di Firenze come si pone su questa vicenda dell'aeroporto? Naturalmente favorevole, però... Favorevole, l'avevamo detto in campagna elettorale, l'avevamo detto in uno scorso mandato, lo ribadiamo ora, è un intervento necessario da fare per due motivi, uno ambientale, la pista così come è posta oggi è assolutamente più impattante di quelle che sarebbe la parallela convergente verso l'autostrada. Oggi ci sono migliaia di cittadini della piana fiorentina, di Brozzi, Peretola, Quaracchi e Le Piagge che vengono impattati tutti i giorni da un rumore elevato, oltre 55 decibel, dai passaggi dei voli. Io ho fatto i presenti di quei quartieri e lo so bene, in certi momenti occorre persino interrompersi mentre si parla. La pista parallela convergente, con gli studi che la regione ha presentato e sono allegati alla variante Alpit, dimostra che il sorvolo sui residenti diminuisce clamorosamente con la pista parallela convergente. Una pista ovviamente deve essere di tipo monodirezionale. E poi migliora la qualità e la sicurezza dello scalo. E questo vuol dire che mantenendo la natura di aeroporto radicalmente diverso da quello pisano, può consentire anche attraverso la medesima proprietà, Corporazione America, gli argentini armeni che sono intervenuti, di realizzare una forte sinergia finalmente, che vada a interrompere un millenario assurdo oggi campanilismo e contrapposizione campanilistica, ma che metta la Toscana insieme e faccia della Toscana il terzo sistema aeroportuale nazionale. È un tema fondamentale per attrarre ulteriori investimenti, quindi migliorare la qualità della nostra economia e del nostro lavoro. Se facciamo gli amministratori locali dobbiamo pensare al tema, che è il principale, dello sviluppo economico, sociale e lavorativo del nostro territorio, che sta meglio degli altri, ma non sta bene come noi vorremmo noi stessi, e non c'è imprenditore o investitore che non ponga per Firenze questa questione. Lo incontriamo tutti i giorni in Palazzo Vecchio, sapete che il Sindaco ha aperto un tavolo con le più grandi multinazionali che investono su Firenze, non c'è un grande investitore che non ponga il tema del miglioramento del sistema aeroportuale fiorentino, che collegato e non in concorrenza con Pisa può davvero rappresentare un valore aggiunto per tutta la regione. Quindi noi continuiamo a essere favorevoli e sarà Enac a stabilire, come la legge prevede, qual è la lunghezza adeguata per realizzare quell'indirizzo politico che la regione ha dato con la variante Alpit, nella quale ha pure introdotto quel tema del dimensionamento dei 2000 metri, ma che in realtà mi pare abbastanza evidente, questa è competenza che spetta ad Enac, che non è la DF, quindi non è la società che gestisce l'aeroporto, e che ha già fatto sapere e ha detto che la lunghezza adeguata per gli obiettivi che si vogliono raggiungere è 2400 metri. Amato, dall'altra parte è completamente all'opposto il suo parere. Sì, io ho sempre detto anche in campagna elettorale come sia inutile ampliare l'aeroporto, anche perché ci sono anche tutta una serie di normativi internazionali che specificano come non serva ingrandire Firenze, che si trova esattamente quasi a equidistanza tra Bologna e Pisa. Invece sarebbe bastato incrementare i collegamenti con Pisa per pensare anche ai pendolari, che è una categoria abbastanza dimenticata come categoria di cittadini, quindi non c'è solo il turismo e il turismo di elite. Però per quanto riguarda proprio i problemi strutturali della zona e urbanistici, ho sentito dire che va bene dal punto di vista ambientale, e non posso essere d'accordo da questo punto di vista, perché innanzitutto per quanto riguarda la lunghezza della pista sarebbe il caso finalmente di dichiarare che sarà di 2400 metri, proprio perché ENAC lo ha già fatto attraverso il suo ricorso al TAR, che ci sono delle normative che legittimano questa richiesta. Poi per quanto riguarda l'impatto ambientale, noi andiamo a impattare su una zona su cui la Regione Toscana ha già speso un sacco di soldi, perché è una zona SIC, quindi protezione ambientale, tutta l'isola che sarebbe dovuta venire fuori. Poi, sempre per quanto riguarda le normative e il codice di navigazione, vediamo che ENAC stessa mette in evidenza come nel capitolo terzo, a partire dall'articolo 715 e l'articolo 707, ci sono una quantità di fattori di rischio per una zona analoga, quindi una zona sovrappopolata, una zona molto densamente abitata, e per i rischi di volo si intendono anche delle zone in cui, se dovesse esserci malaguratamente un incidente, in una zona così popolosa, tanto che è previsto anche l'esproprio, allora in una zona in cui è previsto l'esproprio, in una zona che ricade nel codice 3 e 4, che sono dei codici appunto a cui viene applicato l'articolo 715, quindi per i fattori di rischio, noi ci mettiamo l'aeroporto, l'inceneritore, e ora stiamo pensando di metterci anche lo stadio, e poi dietro l'angolo ci si sa comunque la caserma dei carabinieri, quindi insomma sarebbe un attimino da considerare che è ovvio che si va ad estendere l'urbanizzazione da questo punto di vista, in quella zona lì, però dovremmo prendere delle scelte, fare delle scelte sensate, noi abbiamo anche il problema delle sondazioni, o comunque il problema dell'acqua alluvionali, per quanto riguarda la zona dell'aeroporto, perché non solo le casse di espansione, ma anche tutto il fosso reale, tutti i canali, quindi ci sono una serie di cose, e per quanto riguarda l'inquinamento pustico, che è stato citato, c'è anche tutto l'impatto sul polo universitario, oltre che su tutti i residenti, e non mi accontento nel sentirmi dire, proprio nella visione di quello che siamo oggi, una città metropolitana, quindi che estendiamo la nostra amministrazione anche all'infuori del comune stesso di Firenze, che si salvaguardano dei cittadini a discapito di altri, e l'ultima precisazione in merito all'aeroporto, le tavole stesse di Enac e di Enav, fanno vedere che la pista è bidirezionale, altrimenti si viene meno a quello che è il codice ICAO, che non è una cosa che non ho deciso io e neanche Enac, che prevede che se no si va sotto questo coefficiente, la pista non ha motivo di essere stesa e di esistere, quindi parliamo di una pista bidirezionale. Tra tutte le questioni di cui ha parlato Amato, c'è anche in particolare per lo stadio, la Firenze è molto sentita, tra l'altro. Sì, è l'unica cosa che mi piacerebbe. Sul tema dell'aeroporto, volevo solo replicare brevemente, noi non stiamo discutendo di introdurre una pista dove una pista aeroportuale non esiste, perché se si trattasse di realizzare ex novo un aeroporto laddove non esiste, io sarei d'accordo che quella non è la migliore collocazione. Noi stiamo discutendo di un aeroporto che esiste, che lavora, che funziona, ci diceva Carrai che i voli stanno anche aumentando, e che oggi, messo così com'è, impatta. Questa è la verità. Quindi si deve ragionare, io credo, una politica seria su qual è la migliore collocazione della pista in quella zona lì. E mi pare che il tema della pista messa in maggiore sicurezza con un impatto ambientale sui cittadini, sul numero di cittadini nettamente minore, sia un criterio da valorizzare. Sia al contempo quella migliore collocazione, ma basta vederlo dall'alto qual è la migliore collocazione, porta anche un efficientamento dell'aeroporto con maggiori posti di lavoro e con l'attrazione di un turismo di investimenti, scusate, non di un turismo, del business e quindi degli investimenti, dei soggetti che sono pronti a portare lavoro su Firenze, a me pare che abbiamo messo insieme tutta una serie di elementi molto positivi. Quindi metterlo nel miglior modo possibile, dato che esiste. Poi sul fatto che si voglia scaricare sugli altri, non è così, perché io ho detto, a parità impatta molto meno quella pista. Quindi non c'è nessuna volontà di scaricarlo sui cittadini di Calenzano, Campi o Sesto. Sul tema della variante urbanistica, ovviamente alcuni terreni, se qualche comune pensava che sarebbero diventati edificabili, non lo diventeranno, ma è un tema diverso. Quindi io questo video lo considererei. E rischia di entrare nella zona off limits? Allora, primo tema, non spetta alla politica a dire quali sono i limiti tecnici, spetta alla tecnica, perché questa è la legge che lo dice e per fortuna. La scuola marescialli però c'è già. La scuola marescialli ci sarà già, ma sul tema delle distanze dall'aeroporto e quali sono le prescrizioni, lo diranno i soggetti competenti. Se è vero che la normativa prevede che lo stadio non possa distare meno di mille metri, se lo stadio sarà realizzato, non disterà meno di mille metri, perché altrimenti sarebbe illegittimo realizzarlo. Quindi su questo bisogna che ci sia chiarezza. Mi pare peraltro che dagli scambi che ci sono stati, dopo quelle uscite giornalistiche, ci sia stata una correzione su questo, perché la distanza è superiore. Sul tema dello stadio io sono rettamente favorevole, è l'ipotesi che avevamo già avanzato nella scorsa consigliatura, della variante dell'area Mercafi. Stiamo parlando di un'area che è già urbanizzata, poco conosciuta dai fiorentini, ma urbanizzata. Non è Novoli, come dicono tutti giornalisticamente, fa più effetto. Ma è l'Olmatello, che è una zona che necessita assolutamente di una totale riqualificazione. La Mercafi stessa necessita di una totale riqualificazione, perché oggi non è sostenibile quella struttura. Ci sono capannoni dismessi, in relazione ad altri capannoni ci sono delle fatiche a sostenere gli investimenti. Quindi sono gli operatori stessi che nel corso degli anni hanno posto l'esigenza dell'efficientamento della Mercafi. Quindi quella variante, se realizzata, lo vedremo, il percorso è iniziato, la Fiorentina ha presentato il piano economico-finanziario sulla base delle disposizioni della legge Nardella sugli stadi. L'amministrazione, noi in giunta abbiamo detto, per noi è ok, a patto che ci siano delle prescrizioni che voi rispettate, in particolare la monetizzazione dell'area Mercafi, che in base alla proposta di Fiorentina non è ancora sufficiente, Fiorentina valuterà se intende adeguarsi oppure no, qualora lo facesse, il percorso andrà avanti e potremmo realizzare il nuovo stadio con i servizi annessi. A me pare che sia una questione importante per la città, uno sviluppo importante, connesso a quello che è avvenuto in Germania, in Inghilterra, in Francia, persino in Portogallo, dove ci sono stadi efficienti che costituiscono non il momento della partita, ma uno snodo di vita sociale per la città. Ce ne rendiamo conto e ogni due settimane allo stadio di Fiorentina ci sono 30.000 persone. È un fenomeno sociale oppure no? Se oltre quello lo collochiamo in una zona diversa da quella attuale e ci connettiamo tutto un tessuto, anche economico, che oggi non esiste e che domani potrebbe esistere, io credo che a costo zero per l'amministrazione comunale, perché i fiorentini non pagherebbero un euro, mi pare che avremmo fatto una cosa buona. Poi è chiaro che se non si fa niente non si sbaglia nemmeno, nessuno si lamenta, ma noi pensiamo che governare sia fare. Anche il commento di Amato su questo. Allora, ovviamente trattandosi della Fiorentina siamo un po' sensibili al tema e quindi diciamo che non c'è una contrarietà a priori per lo stadio, per carità, anche perché effettivamente la Fiorentina si merita uno stadio adeguato ed è vero che ci sono abito allo stadio di Firenze, per cui è vero che si ingolfano in terra città perché è molto vissuto. Però il mio problema è che non posso accontentarmi la tifosa della Fiorentina, cosa vorrei per la Fiorentina e gli altri tifosi. E il fatto è che noi abbiamo avuto una richiesta della Mercafir molto chiara di avere una risposta entro il 31-12 su quello che sarà il loro futuro. Quindi qual è la zona che gli verrà destinata, se è accessibile, se comunque riesce a garantire l'accessibilità anche ai fruitori, ai consumatori, cioè che possa garantirgli delle caratteristiche per portare avanti l'attività. Sappiamo che all'interno della realtà della Mercafir ci sono anche dei privati che ci hanno già investito e sappiamo però che ad oggi le risposte della Mercafir non ne ha ricevute, non ha ricevuto nessuna certezza, tranne appunto che la società dice che si assuma l'oneri anche di rinnovare la Mercafir. Quindi io direi, benvengo allo stadio della Fiorentina, che in tutto quello che vogliono fare in quell'area è l'unica cosa che posso individere. Avrei preferito sinceramente nel progetto della Fiorentina che non venisse nella cittadella il concetto di un enorme grosso centro commerciale perché abbiamo visto che come attività produttiva tende ad assorbire tutte le piccole realtà e anche a farle fallire ma avrei preferito magari una spinta in più o presentato un ordine del giorno in merito ieri in Consiglio Comunale perché venisse presa una posizione da parte dell'amministrazione per chiedere alla società magari degli spazi per l'artigianato oppure delle piccole botteghe cioè sì, uno stadio moderno uno stadio all'altezza della Fiorentina però salvaguardando quelle che sono un po' le caratteristiche locali con tutela per i posti di lavoro perché ad oggi si dice creiamo una nuova attività che darà nuovi posti di lavoro ma al momento non siamo ancora riusciti a dare delle garanzie ai 1500 posti di lavoro ancora in ballo. Comunque lo stadio non verrà realizzato se non ci sarà una soluzione per la Mercafir è una delle prescrizioni che è stata posta ed è stato detto fin da subito ma è scritta nero su bianco nelle carte quindi se verrà monetizzata per quello che vale l'area e la sua ricollocazione in un'area adeguata lo stadio potrà essere fatto altrimenti no perché sarebbe una prescrizione non rispettata e adesso è la Fiorentina che valuterà se ritiene sostenibile questa operazione io mi auguro di sì perché attraverso investimenti privati si realizzerebbe un miglioramento di una parte importante della città a servizio della città Volevo un flash rapidissimo perché abbiamo già esaurito il nostro tempo sul discorso della moschea anche perché l'abbiamo lanciato all'inizio anche se ancora le carte diciamo i giochi sono un po' fermi su questo favorevole o non favorevole? Favorevole io sono contro la paura del diverso Gianessi? Senza dubbio peraltro io credo non debba nemmeno cioè non è in facoltà di scelta di un amministratore è un diritto riconosciuto dalla nostra Costituzione per fortuna che è diverso da quella di paesi integralisti riconosce le libertà tra cui la libertà religiosa e quindi spetterà alla comunità islamica presentare un progetto coerente con i nostri regolamenti urbanistici e fare ovviamente loro gli investimenti se ci saranno le condizioni è giusto che abbiano la possibilità tutto quello che è successo in questi giorni è cosa ben diversa bisogna combattere l'integralismo a partire dalla comunità islamica di Firenze che deve essere con noi come è stata effettivamente in questi giorni per combattere forme di integralismo che sono inaccettabili e che sono un problema per la comunità islamica e per tutti gli altri quindi su quello bisogna essere inflessibili ma Firenze è una città del dialogo interreligioso quantomeno nei tempi di Lapira ma anche molto prima e quindi abbiamo io credo nel nostro DNA le caratteristiche per poter affrontare anche queste questioni che sono complicate e spinose ma non con la paura o con l'isolamento non è nella storia di Firenze che questo succede e su questo penso insomma possiamo essere tutti d'accordo allora ringrazio i miei ospiti Emilia Mamato per essere stata con noi grazie anche a Federico Gianassi grazie a tutti naturalmente l'appuntamento con Malacoda torna domani buonasera ha imbrogliato ve l'ha detto brevemente grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti